e adesso questo renegade della polizia incredibile poi al limite è tipo 50 all'ora 50 all'ora lollissimo questa velocità quanti io su questa trada che dovrebbero ritirare la patente che cazzo no 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 io non mi voglio far il bagno e che poi no è bello vedete occhio con solo c'è il slick vedete guarda questa acqua senti tutta l'acqua addosso si ma questo qua sta a fa globo qualcosa a noleggio frate sei un campione che non lo so che tu mi fichi sotto stava senti la freccia ma sei scema non so se quello era un beccasso che palle eh vieni qua ci l'ho passato oh non è d'accordo che l'avevo passato mi piace scendere l'ivana mi fa cagare senza freni porca troia non si è frenato avanti zero proprio ma come cazzo è possibile ma vado e botto non si può campare così la moto dovrebbe essere l'unica cosa che mi rallegra in alcuni momenti quattro giorni fa si è rotto il filo della rave adesso non frena porco zio penso se stava una curva adostava manetta che cazzo c'è non so se stava Noi, noi, noi. Grazie a tutti.